buongiorno ragazzuoli oggi oggi sarà tosto oggi oggi è tragica perché dalle 11 e mezza non posso non posso mangiare tra virgolette è quello che finisco alle due e mezza di lavorare ho dormito pochissimo perché giustamente non si riesce a dormire con sto caldo ventilatura a parte vergognoso oggi sarà tosto va giù speriamo che le mie gambe mantengono questo chiaramente basta con sto caldo l'estate non si può lavorare proprio lascia fa lascia fa l'estate io penso che chi lavora d'estate dovrebbe denunciare denunciare tutti e tutto ma non so parlare di me perché io lavoro da poco quindi a me ci può anche stare non sei abituato e vai però la gente che fa i muratori guarda l'imbalcatore d'estate dovrebbe denunciare a tutti veramente dovrebbero vergognarsi di farli lavorare l'estate veramente schifo ma da qua già batte il suo poi non si è capito se se gli era piovuto se non mi sono svegliato tutto nuvolo ma ci sta il sud non si capisce più un cazzo non si capisce più ne merito cazzo signori non si capisce nulla nulla ma non si capisce se giova si è sciosura si si amma morì che è morte facciamo non si capisce no cazzo non si capisce un cazzo signori un cazzo voi che dite tutto a pozzo eh ritornando alla Juve ragazzi la situazione preoccupante Pogba tornerà al 2023 vabbè che c'è la pausa c'è la pausa come si chiama pausa mondiale quindi è tutto a pozzo la Juve saluto buona giornata a tutti voi e abbraccio